Appa Seme, Eketukereven, Suraghiay Yiduhanday, De Das Palave, Natal Prasangete, Obe Seme, Itamat Adren Sa, Gauruwe Apipiligali. Noi, la comunità srlanchese della parrocchia dei dodici apostoli, vi diamo il nostro benvenuto e vi accogliamo con tanto amore e tanto rispetto. Il tema di quest'anno è Suraghiay Biliduhanday, che significa i canti degli angeli con il grido del bambino. Oggi non ci saranno gli angeli, però ci siamo noi, cantando e ballando adoriamo e veneriamo il bambino appena nato. Noi, la comunità srlanchese della parrocchia dei dodici apostoli, non ci saranno gli angeli, non ci saranno gli angeli, non ci saranno gli angeli. Noi, la comunità srlanchese della parrocchia dei dodici apostoli, non ci saranno gli angeli.